Sono una vostra telespettatrice e vi invio alcune foto di un attraversamento pedonale un po' anomalo. Comincia così il messaggio arrivato alla nostra redazione da una cittadina di Fellette, che segnala in via Manzoni un attraversamento poco sicuro per i pedoni e poco accessibile. Strisce pedonali che terminano in uno spiazzo privato, circoscritto da una catenella che blocca il passaggio. Un vicolo cieco che si trova nel bel mezzo dell'attraversamento. «Pensate se questo tocca una carrozzina», scrive nel messaggio la nostra telespettatrice. E noi, come sempre, siamo andati da chi di dovere per avere risposte. Sindaco, cosa risponde la nostra telespettatrice che segnala un attraversamento anomalo a Fellette? La prima cosa che faccio è ringraziarla perché pone anche a noi l'evidenza di un tema che magari a un passant è già stato affrontato in altre parti del comune, ma in quella zona particolare evidentemente mai. Il fatto che le strisce terminino sul ciglio stradale, che il ciglio stradale poi confini con un'area privata che è recintata, pone delle questioni. Una prima opzione per l'amministrazione comunale è il confronto con il privato. Interfacciarci con il privato per capire se c'è la possibilità di aprire un varco in una zona che oggi è utilizzata a parcheggio. E se il confronto con il privato non portasse soluzioni? In seconda battuta capire se ci sono alternative tecniche rispetto a quelle esistente, proprio per capire se il tema che affronta la signora, la nostra concittadina, e che chiede di trovare una soluzione per chi dovesse attraversare la strada con carrozzine o altre usili per disabili, capite bene che è una cosa che non va lasciata a perdere. Allora lo segniamo in agenda? Dobbiamo segnarlo in agenda, assolutamente. Grazie. Grazie.